Tornare a sorridere ovviamente con una vittoria e farlo soprattutto in modo convincente, questo è l'obiettivo per la pallacanese Roseto che domenica ospiterà qui a Palamaggetti, faenza per la quarta giornata di campionato. Sì, è importante per noi tornare a vincere, stiamo lavorando bene in settimana, stiamo preparando la partita e speriamo di continuare così in questa serie di allenamenti. La partita della Luiz ci ha dato una scossa, adesso tocca tornare a riprendersi due punti. E' stata una settimana di allenamenti un po' importante perché al coach non sono andate bene ovviamente alcune cose per la trasferta di Roma contro la Luiz, però ecco, domenica una buona occasione per rifarsi contro i Romagnoli. Beh sì, ci sono state tante cose da aggiustare diciamo dopo la partita della Luiz, che sia un'occasione per noi di capire quello che non è andato per far meglio già domenica e speriamo vada bene. Ecco, Faenza che è squadra molto esperta, ha vinto la Supercoppa, però ecco non ha fatto un buon inizio di campionato perdendo due partite. Beh, Faenza è comunque una squadra molto forte, l'ha dimostrato in Supercoppa, ha perso due partite ma entrambi non semplici, un girone tosto lo sappiamo. E' come abbiamo potuto vedere anche sabato contro la Luiz, perciò dobbiamo farci trovare pronti. Per quanto riguarda l'inizio di campionato di Alfonso Zampogna, una delle note liete di questo campionato di Roseto ed è probabilmente, si sta confermando come uno dei migliori under del campionato. Beh sì, il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a vincere le più partite possibili. Sono abbastanza contento di come sto giocando, ma per me conta vincere, non mi interessa il resto, diciamo.